In avvio, il proprio Renegade Trav che va a condurre nei confronti di Rais Rob, veloce dall'esterno, che supera la macchina di gara, l'errore invece di RGSA rimane in mezzo alla pista, l'errore anche di Renegade Trav, metà piegata, che lascia così al comando Rais Rob, ha sbagliato, quindi favorito Renegade Trav. Quindi vediamo come si sistema la situazione dopo 400 metri di gara, all'esterno c'è Robert Cazone che è seguito da Ravel Griff, e così se ne vanno in 39, prima 400 metri di gara, con la linea di Giuseppe Perse e Iunio in vantaggio, in seconda posizione rimane Rob su di gara avanti a Rinaldo MT, la terza ruota di Rombogetto dopo 550 metri di gara. Rombogetto si profila sui primi, 47.3.600, insiste Rombogetto con uno strappo, si porta a ridosso di Rais Rob, lo impegna, lo sopravanza all'altezza del giro. Rombogetto è leader quindi dopo 800 metri di uno e due scarsi, 14.6 davanti alla tribuna. All'esterno c'è anche Renegade Sam che segue direttamente le mosse di Ravel Griff, mentre in seconda posizione si mantiene Rais Rob avanti a Razio di gara. Intanto il chilometro completato da Rombogetto in 1.18.2, Rais Rob infia poi all'esterno ancora generosamente Ravel Griff. Rombogetto seguita da Rombogetto, seguito da Rombogetto, poi Serrazzo di gara e alla corda Rinaldo MT, 450 alla conclusione, all'unio a Rombogetto. Si affronta nettamente al comando la curva conclusiva, partiale in 14.6. Rombogetto si distaccia in avanti, mentre Ravel Griff sta attivando Rais Rob all'esterno del centro di Rombogetto. Poi Rinaldo MT che sprinta a centropista, ultimi 150 metri di gara per Rombogetto, si avvia un debutto davvero notevole, una vittoria nettissima, mentre la lotta per il secondo vede Rinaldo MT aver ragione nel finale della concorrenza al perso Rinaldo MT che piega Ravel.